è una strada dimenticata dal piano di serbo comunale dall'ultimo video denuncia la situazione ad oggi non è cambiata erba ancora alta a via martedì d'africa della mentere dei cittadini sui social e non solo non mancano con il caldo proliferano gli insetti il marciapiede ormai è diventato impraticabile non comprendiamo perché in questa zona non si intervenga per chi soffre di allergia è un vero problema denunciano i residenti ma stando alle segnalazioni dei cittadini i disagi restano in molte altre zone come in via dei gasperi il piano di serbo avviato dall'amministrazione comunale è già partito da tempo ma visti i ritardi accumulati ancora non si è riusciti ad intervenire su tutto il territorio e con le alte temperature di questi giorni la situazione non può che peggiorare